Signori, allora buonasera, facciamo il video direttamente così, perché tanto in diretta non abbiamo lo stesso vantaggio che potremmo avere facendolo, è che meraviglia, belli, guardare qui che cosa hanno fatto questi ragazzacci, non so come altro chiamarli, se non ragazzacci. Buonasera, voglio salutare, salutiamo anche i ragazzi che ci stanno osservando da qui, guardate che belli, che cosa hanno cambiato questi ragazzacci, guardate qui, guardate che meraviglia, hanno fatto qualcosa di veramente eccezionale, veramente bello. Adesso andiamo un po' più sopra, mi facciamo vedere, anche che cosa hanno fatto qui, tutto fatto con i tappi di plastica, guardate, tutto fatto con i tappi di plastica, guardate, spettacolo, tutta plastica riciclata, guardate, 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 con i tappi di plastica, guardate, con i tappi, stanno semplicemente, questa è tutta plastica riciclata, utilizzata, guardate qua, guardate che bello, nel frattempo passa anche una barchetta, bravissimi questi ragazzi guardate che bravi hanno fatto qualcosa di veramente eccezionale eccezionale veramente bello ma bello 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 guardate qua guardate intanto è tutto fatto a mano io vi voglio far vedere che è tutto realizzato a mano guardate guardate che bello tutto guardate qui guardate che bravi veramente bravi 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 tutta plastica tutta plastica che poi sono bellissimi adesso vi facciamo vedere anche di qua non vogliamo togliere il gusto anche agli guardate qua che cosa hanno fatto insieme con la plastica riciclata e qui abbiamo sono simpaticissimi sono veramente simpatici hanno quella simpatia che diventa unici guardate che belli allora detto oggi hanno combinato questi ragazzacci guardate guardate cosa hanno fatto poi vi facciamo vedere anche il mare guardate che belli guardate guardate che sono veramente incantevoli guardate che bella guardate che bella guardate che bella abbiamo questo è il mare di santa rastatia a fondi facciamo pure una foto qui stiamo sul ponte di santa rastatia però il foglio l'avete visto mille volte quindi possiamo anche ovviare torniamo un po' indietro nel frattempo fermiamo alcuni video alla prossima ciao